Nel Medioevo Nel Medioevo le donne sassoni si stendevano un unguento rosso sulle labbra e i borgognoni si lucidavano i capelli con un unguento di burro acido. Ma già lo scrittore Cristiano Tertulliano, 160-220, in De Cultu Feminarum, si occupava dei vestiti delle donne che dovevano essere sempre particolarmente discreti e mai succinti. Vennero poi riprovati i trattamenti di bellezza fino ad accusare di stregoneria chi se ne occupava perché modificava con artifici l'aspetto donato da Dio. Forse il Medioevo viveva una moralità più solida della nostra? Commento Al contrario La moralità della storia precedente è sempre minore della moralità della storia successiva. Nei secoli l'umanità si muove da una verità imposta ad una moralità sentita perché è divenuta stato d'animo.